Oggi sono qui per raccontarvi di una storia molto triste, la storia della mia esperienza con Canoneos R6 e il surrescaldamento durante la registrazione di video in 4k. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia ma qualche volta anche di video e nel contenuto di oggi vado a parlarvi proprio di questo. Ho noleggiato una Canoneos R6, non l'ho acquistata perché mi serviva spot per fare un lavoro singolo, mi serviva quella macchina perché mi servivano alcune caratteristiche e con l'occasione ho noleggiato anche un'ottica di cui vi parlo in un video che vi lascio linkato da qualche parte perché dovrebbe essere già uscito a questo punto. A questo proposito vi ricordo che se argomenti come questo vi interessano io vi consiglio di iscrivervi al canale perché ci sono diversi video che ho già pubblicato e diversi video che ho già programmato quindi che sono in procinto di uscire che girano sempre intorno a tematiche fotografiche quindi equipaggiamento, recensioni, pareri, opinioni, tutto quello che vi può interessare lo trovate su questo canale. Ma andiamo a parlare dell'imputata di oggi ovvero Canoneos R6, una macchina che stiamo giudicando in contumacia perché io al momento non ce l'ho più nelle mie mani. L'ho infatti dovuta restituire con rammarico perché comunque è una bella macchina. Devo dire che ci sono diverse cose che mi sono piaciute. La più impressionante devo dire è stato il tracking dell'occhio utilizzandola per fare fotografia in studio con un'ottica come il 50 mm serie L f1.2. Ho scattato delle fotografie di ritratto a f1.2 e devo dire che la messa a fuoco sull'occhio è fenomenale, è perfetta, mette a fuoco in maniera super precisa e non sbaglia veramente un colpo. Quindi da quel punto di vista è una grandissima macchina. Devo dire che ha un punto debole che personalmente mi ha un po' sorpreso ovvero trovo che l'immagine da 20 megapixel che già non è grandissima non abbia una bella definizione. L'ho trovata un po' digitalona, un po' artificiale, ho notato addirittura degli artefatti. Sono abbastanza convinto di aver scorto degli artefatti all'interno delle immagini estratte da questa fotocamera, cosa che non avevo minimamente ravvisato tutte le volte che ho utilizzato R5 o Canon EOS R che invece possiedo se è per quello. al che mi vado a porre la domanda vale la pena acquistare Canon EOS R6? Stiamo parlando della prima versione ovviamente. Non vado a rispondere a questa domanda nel corso del video perché in questo video voglio parlarvi solamente di un altro problema di questa macchina, quindi ne stiamo già sommando parecchi ed è il problema del surriscaldamento durante la registrazione di video in 4k. Facciamo un passettino indietro e vi do un po' di contesto. Io noleggio questa strumentazione perché mi serve per fare un lavoro in studio. Non vi sto a dire il perché la vado a noleggiare. Voglio questo tipo di strumentazione, non ho intenzione di utilizzare la mia strumentazione per fare questo lavoro perché mi servono determinate cose. Quindi vado a noleggiare la R6, è tutto pronto in studio, fra l'altro sto utilizzando i microfoni che mi vedete anche addosso che sono i microfoni di Synco che ho recensito sul canale, vi lascio un link da qualche parte, andatevelo a ripescare. Sono dei microfoni molto belli che mi hanno consentito di fare un ottimo lavoro e di lavorare bene in studio microfonando le persone e non dovendomi più preoccupare sostanzialmente di niente perché avevo tutto perfettamente sotto controllo, tranne una cosa, il surriscaldamento della videocamera. Io vado a realizzare questi video e il formato è quello che vedete voi a monitor in questo momento perché più o meno la cosa era quella. Quindi persona che parla, talking head, con più o meno questo formato, l'unica differenza è che stiamo riprendendo in 4k sapendo che poi rifileremo la porzione centrale a misura di smartphone perché il mio cliente, tra l'altro il mio cliente è un'azienda molto importante e sono sicuro che la conoscete. Adesso facciamo una bella cosa, sondaggio, scrivete tutti quanti il nome di un'azienda in un commento, vediamo se qualcuno indovina l'azienda per cui era questo lavoro che purtroppo non credo che potrò farvi vedere perché è un lavoro un po' blindato quindi non potrò pubblicare niente. Però se qualcuno indovina il nome dell'azienda ve lo dico. Dunque i video erano dei contenuti verticali quindi io filmo in 4k per comodità, per tenere la camera dritta e per avere le riprese tutte uguali, per avere un po' di margine anche in maniera che me le posso rifilare dopo e vado poi in postproduzione a rifilarmi la porzione centrale. Ho microfonato tutte quante le persone e queste persone mi devono parlare, devono recitarmi uno speech e questi speech si susseguono nell'arco di tutta la giornata. Quindi abbiamo una persona che arriva alle 9 di mattina, mi fa il suo speech, ci mette magari 10 minuti, 15 minuti, dopodiché si interrompe il video, io spengo la videocamera perché non voglio farla surriscaldare e ci si sposta in una sezione a parte dove faccio la foto di rito a questa persona che ha terminato quello che doveva fare perché ha fatto sia foto che video e se ne va. Alle 10 arriva un'altra persona che di nuovo mi fa il suo speech, magari sbaglia una parola, allora deve recuperare il filo del discorso, insomma erano tutti speech da circa un minuto. Per fare uno speech da circa un minuto tutte quante le persone ci hanno messo magari 10 minuti perché hanno voluto ripetere qualcosa, perché gli abbiamo fatto fare tutto due volte, quindi per essere sicuro di avere il materiale buono io non faccio recitare la frase una volta sola, gliela faccio recitare due volte, voglio due take buone in maniera tale che poi se il cliente mi dice che l'intenzione su una delle due non andava bene, che c'era un errore su una delle due parti, che magari ha guardato, questa è una cosa che io dico sempre, quando si sta parlando in camera è bruttissimo vedere questo. Quando la persona, chiamiamola intervistata, finisce la sua frase e una volta finito cerca l'approvazione di quelli che stanno a lato, è bruttissimo da vedere, per cui se ci sono errori di questo tipo, se la persona ha guardato da un'altra parte, difficilmente lo fa due volte nello stesso punto, anche perché ce ne accorgiamo e glielo diciamo, quindi la si rifà evitando quell'errore, quindi abbiamo fatto tutte le frasi due volte, quindi un minuto di speech, che devono diventare due minuti di speech, ci abbiamo messo dieci minuti a persona. Ora, verso metà giornata, la fotocamera comincia a mostrarmi l'odiatissima spia di surriscaldamento e devo dire, attenzione, che non è un cattivo risultato tutto sommato, perché per essere una fotocamera famosa per il surriscaldamento, tutto sommato io faccio i miei dieci, quindici minuti di ripresa alle nove, poi spengo, faccio le mie fotografie, alle dieci arriva un'altra persona e quindi facciamo altri quindici minuti di registrazione in 4k senza problemi, dopodiché fermiamo la registrazione, facciamo di nuovo le foto di rito, alle undici arriva un'altra persona e così via, dopodiché c'è la pausa pranzo di mezzo e la fotocamera comincia a dare segni di surriscaldamento intorno alle tre e mezzo, quattro, quindi tutto sommato non è un cattivo risultato, diciamo che la macchina ha lavorato per la buona parte della giornata senza mai dare problemi, vero anche che la ripresa durava dieci minuti e poi c'era un'interruzione, ovviamente se avessimo fatto una ripresa continua di un'ora sarebbe andata in surriscaldamento molto ma molto in fretta, cosa che succede anche alla R7 che sto utilizzando in questo momento, quando mi capita di dilungarmi in uno dei miei contenuti, quando supero i 30 minuti compare la spia di surriscaldamento, questo succede ovviamente più in estate che in inverno, magari in inverno quando fa più fresco ci mette di più a comparire quella spia, però compare e questo è un problema che queste macchine hanno, in questo caso io sto registrando in 4k 24 fotogrammi al secondo e in formato C-Log, in studio utilizzando la R6 io non stavo nemmeno usando il C-Log, però stavo registrando a 29,97 frame al secondo, perché per motivi che, questo è un indizio se dovete indovinare l'azienda, per motivi che non vi sto a dire il mio cliente ha bisogno dei 30 frame al secondo, i 24 non gli interessano, quindi ho impostato il 29,97, quindi un 4k 29,97 è comunque impegnativo, è comunque, non lo so, non lo so quale pesa di più, se pesa di più un 24 frame al secondo in formato Log o se pesano di più i 29,97 senza Log, non lo so quale pesa di più, mi verrebbe da dire che i 29,97 pesano di più perché comunque sono un bel po' di fotogrammi in più, quindi c'era anche questo problema, fatto sta che la fotocamera dà segni di surriscaldamento, io mi accorgo che dà segni di surriscaldamento e quindi cerco di trovare delle soluzioni, per esempio faccio tutto quello che posso per far terminare la persona che sta parlando nel più breve tempo possibile, propongo delle soluzioni, aiuto, mi invento dei gobbi, faccio delle cose per chiuderla il più velocemente possibile in maniera tale da dare respiro alla fotocamera, in questo caso purtroppo dare respiro alla macchina è l'unica cosa che possiamo fare, bisogna spegnerla e lasciarla raffreddare, ora nel momento in cui comincia ad accendersi la spia la questione non è ancora grave, arriva un bel momento però in cui continuando a riprendere, continuando a riprendere la spia diventa rossa e il minutaggio disponibile diventa sempre meno, quindi io quando faccio partire la registrazione ho un tempo limite di non mi ricordo più cos'è, 20 minuti, 50 minuti, non mi ricordo più, c'è un tempo massimo di registrazione che ho a disposizione, man mano che registro questo tempo massimo diminuisce nel senso che io faccio una ripresa, premo rec, la mia macchina sta registrando, a un certo punto interrompo rec perché magari la persona che sto riprendendo ha bisogno di rileggere la frase e io non filmo tutta la sessione, non filmo mentre ripassa la frase, quindi stoppo la registrazione anche perché poi mi ritroverei con giga e giga di materiale inutile, quindi fermo la registrazione e la faccio ripartire quando mi dice ok ho la frase pronta, fai ripartire e facciamo la frase, ma non faccio la persona che ripassa la frase, quindi oltretutto la macchina non ha neanche funzionato tutto il tempo. La fermo, nel momento in cui la fermo vedo che non ho più lo stesso tempo limite di prima ma è diminuito, quindi se erano 20 minuti sono diventati 15, io ripremo rec, facciamo la seconda frase, a un certo punto la persona si interrompe di nuovo perché vuole leggere la frase successiva, io fermo di nuovo rec e vedo che siamo a 10 minuti di tempo massimo, insomma questo tempo massimo continua a calare perché la macchina è sempre più calda e in qualche modo mi fa capire che potrà reggere degli sforzi via via sempre inferiori, fin quando un bel momento mi rendo conto che la macchina mi dice un minuto, ho un minuto di registrazione dopodiché la macchina smetterà di registrare e andrà in blocco perché è troppo calda. A questo punto per fortuna siamo arrivati all'ultima frase di quella persona che sta parlando, quindi io incrocio le dita e me le fa buone, mi fa buone le due take e quindi io fermo la macchina, fermo la registrazione sui 52 secondi e ce l'abbiamo fatta, ci siamo portati a casa allo speech di questa persona, quindi spingo la macchina e a questo punto che cosa faccio? La apro, tiro fuori la memory card che è rovente, è una cosa, è veramente più che calda, molto più che calda, non dico che faceva male tenerla in mano, ma non eravamo distanti, quindi era veramente calda e apro anche il vano della batteria, estraggo la batteria e poso la videocamera su un fianco in maniera tale da tenere lo sportello della batteria aperto e il vano della memory card aperto. In questa maniera in qualche misura si raffredda più rapidamente perché comunque l'aria ha modo di circolare, la batteria esposta all'aria si raffredda più rapidamente piuttosto che lasciata all'interno del vano, quindi mi invento una serie di cose per raffreddare la strumentazione, nel frattempo facciamo altre cose, facciamo le foto del team, le foto di gruppo, le foto delle varie persone che sono venute, dei vari partner che sono venuti a questa sessione di studio, quindi abbiamo le nostre cose da fare per fortuna, la macchina nel frattempo si raffredda, quando scocca l'ora arriva la prossima persona che deve fare il suo video e la macchina è ancora sorriscaldata. In questo caso ho dovuto innanzitutto segnalarlo, ho fatto presente che c'era questo problema, un problema noto che si risolve semplicemente aspettando un pochino, per cui abbiamo diviso lo speech in due parti. Abbiamo fatto la prima parte dello speech, dopodiché ho dovuto interrompere perché nuovamente la macchina andava in blocco e quindi abbiamo di nuovo aperto il vano, tirato fuori tutto e l'abbiamo lasciata lì. Nel frattempo abbiamo fatto le foto all'ultima persona, una volta fatte le foto ci siamo rimessi col setup del video e questa volta avendo da fare solo la seconda metà del video abbiamo concluso dignitosamente con la carica che era rimasta. Questo per dirvi che la macchina funziona, si comporta bene, non ha mai dato problemi di messa a fuoco, non ha mai dato problemi di nessun tipo, è una bella macchina, funziona molto bene. Il problema del surriscaldamento è assolutamente reale e in un contesto in cui comunque abbiamo la possibilità di far riposare la macchina il problema rimane perché comunque anche se abbiamo modo di far riposare la macchina man mano che la utilizziamo nell'arco di un'ora di tempo la macchina non va a raffreddarsi completamente. C'è anche da dire che era estate, era fine agosto, forse inizio settembre quando abbiamo fatto questo lavoro, però eravamo anche in uno studio con l'aria condizionata, quindi sì ok fa caldo ma non eravamo fuori sotto il sole, quindi era una condizione normale, era una condizione che potremmo definire standard, ci saranno stati 26-27 gradi, non era una cosa, non c'erano 37 gradi, saranno stati 27, massimo 28. Per cui a parer mio il problema è assolutamente reale, bisogna stare attenti a che cosa si fa, in questo caso me la sono cavata, il lavoro è stato portato a casa, il cliente è anche soddisfatto, il problema del suo riscaldamento è assolutamente reale e nel caso in cui le riprese avessero dovuto protrarsi per un tempo maggiore avrei sicuramente dovuto cambiare camera. Avevo un'altra camera con me che doveva essere di backup, questo era uno dei motivi per cui avevo affittato la R6, a quel punto avendo una R6 meglio la R6 della mia R7, però sono stato a tanto così da dover cambiare macchina, il che mi avrebbe seccato perché sarebbe cambiato il framing perché la R6 è una full frame e la mia R7 invece è una PSC, ma per fortuna non ce n'è stato bisogno. Faccio questo contenuto per dirvi non di non comprare la R6 perché è una macchina bellissima, faccio questo contenuto però anche per aumentare un po' la consapevolezza su questo problema, nel senso che se prendete la R6 per fare fotografia, ottima macchina, posto che secondo me ci sono un po' di artefatti, l'immagine da 20 megapixel non mi ha soddisfatto appieno, però comunque è una macchina professionale, si può lavorare con questa macchina, si tirano fuori delle belle cose. Lato video non voglio dirvi prendete R5 che è meglio, però è così, io con R5 mi sono trovato meglio, mi è capitato di usare R5 per fare video in una giornata di luglio sotto il sole a picco per gran parte della giornata, non ho avuto gli stessi problemi di surriscaldamento, poteva dipendere dal firmware, adesso io non sono andato a guardare che versioni del firmware erano, magari poteva dipendere dal singolo modello, dal singolo pezzo che io avevo in mano, magari su altri modelli uguali non c'è la stessa problematica, però su R5 io ho riscontrato molti meno problemi di surriscaldamento, anzi non ne ho riscontrati, quando mi sono trovato a utilizzare R5 sotto il sole all'aperto non mi ha dato problemi di surriscaldamento, forse l'ho usata per un minutaggio lievemente inferiore, però grosso modo il peso delle riprese che mi sono portato a casa era analogo e il formato in cui ho registrato era lo stesso. Vi chiedo a questo punto fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate, siete possessori di R6, R6 Mark II o R8? Fatemi sapere come vi trovate, se la usate per fare video, francamente ne dubito, perché la maggior parte delle persone che mi seguono, se ho capito bene, fanno solamente fotografia. Quindi in questo caso parliamo di video e questa è una problematica che non si presenterà facendo foto, perché questo è un problema che si presenta solamente con l'acquisizione video e con l'acquisizione video in 4k in particolare, sul full hd ci mette molto di più a surriscaldarsi, quindi se fate dei brevi video in full hd andate assolutamente tranquilli, il 4k che ormai sta diventando il formato standard un pochino più professionale, ancora su questo modello crea un po' di problemi così come ne crea anche sulla mia R7, ma per fortuna io cerco di tenere i miei contenuti non troppo lunghi e per questo motivo non mi dilungo oltre, vi ricordo di seguire il canale per darmi un minimo di supporto, se questo tipo di contenuto vi interessa lasciate anche un like a questo video, io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.